Parlare di sanità è creare immediatamente una situazione di difficoltà, difficoltà nel dialogo con le persone. Allora, per chi non lo sapesse, il sottoscritto non ha mai fatto sport. Ho preferito andare ai funerali dei miei amici che facevano sport, per la verità. Comunque uno sport l'ho fatto perché stavo seduto al timone, barca a vela, se mi senti i velisti. Allora, in barca a vela sono andato per parecchi anni, se non che a Torbole un giorno è arrivato un signore dal Santo, italiano emigrato in America, il quale era, io l'ho saputo dopo, un grande anestesista, è stato uno dei più grandi anestesisti, perché molte delle anestesie, parliamo di qualche tempo fa, portano il suo nome, perché lui è stato a Detroit, è stato nel Texas, è stato primario anestesista, eccetera. Naturalmente quando era il Pialac, per chi non lo sapesse, il Pialac è quando cessa il vento e cessa l'ora, allora rimani con la barca, fermo e si parla. E allora con questo qua, ma del Santo, dico come mai hai cooperato la casa qua? Dico, ma guarda, a Madonna di Campiglio, sono venuto in Venegiatura un anno, ho conosciuto un certo Otto Virdia, il quale aveva questa casa a Torbole, me l'ha venduta e sono venuto qua. Dico, ma cosa fai di lavoro? E dice, io sono anestesista, sono anestesista, ma io credevo che tu fossi un viaggiatore di commercio, no, ma che viaggiatore di commercio, io sono anestesista. E con lui io ho parlato di ospedali, parlo di 40 anni e 40 anni fa e veramente si parlava degli ospedali del Trentino e lui rideva, rideva sempre, pensate che non era ancora fuso l'ospedale di Arco e di Riva, io stavo già lottando per la fusione dei due ospedali, perché per chi non lo sapesse, se l'ospedale è in quella posizione, ha un certo nome. Naturalmente, lui mi ha raccontato di cos'era. Prima cosa, un ospedale è come una fabbrica a ciclo continuo. Come dico una fabbrica a ciclo continuo? Sì, perché l'infarto non è che viene solo la mattina, viene pomeriggio, c'è l'appendicite, non è che viene solo la mattina, poi viene pomeriggio, allora gli ospedali americani funzionano a full time, come la cartiera di Riva, come l'acqua fill. Il chirurgo che incomincia a lavorare alle 8 della mattina, finisce alle 4 del pomeriggio con la sua equip, alle 4 del pomeriggio arriva un altro chirurgo di pari valore, eccetera, con la sua equip, nella stessa sala chirurgica che ha adoperato quell'altro e si passano le consegne. Però l'ospedale funziona in continuazione con equip valide sempre. E la cosa che mi ha impressionato allora, mi parlava di tecnologie, e lui mi diceva, vedi come c'è la selezione naturale negli uomini, negli animali, la selezione ospedaliera sarà una selezione sanitaria, perché è difficile levare un ospedale da una zona perché la popolazione è legata, quindi diventa un problema di affezione. Chi ha l'ospedale sotto casa, vuole avere sotto casa, eccetera, perché quindi può assistere al malatto, c'è tutta una tradizione. Ma la proiezione futura, quello che noi stiamo già vedendo nei nostri ospedali, è sulla tecnologia. Notate bene che allora non c'era ancora la possibilità di entrare con i tubi a vedere e operare come fanno adesso, quella è la paratomia, e neanche di andare nello stomaco a vedere se uno ha il tumore con quel tubo, neanche di andare giù il naso a vedere se ci sono le corde vocali apposta, neanche la risonanza magnetica, però loro ne conoscevano già la programmazione. Allora lui diceva che la tecnologia sarà quella che cambierà la visione degli ospedali. Ora, in una provincia di Trento con 12 ospedali, parlare di questi argomenti si comincia già ad avere la popolazione. Mezzo Lombardo deve parlare di queste robe. Io quando penso che stanno ricostruendo l'ospedale di Mezzo Lombardo mi viene in mente il Dal Santo, lasciamo perdere. Ma è vero quello che lui diceva, perché la tecnologia non può essere applicata, mi diceva Dal Santo, in ogni ospedale, ma per una ragione, una ragione di costi, perché certe attrezzature oggi sono talmente sofisticate, talmente costose, che non si possono mettere dappertutto. Vanno messi in posti dove si pagano, cioè dove il numero di interventi è tale per cui si può pagare. Un ultimo esempio e poi se mi permettete tornerei sull'argomento la prossima volta. Una attrezzatura deve essere anche adoperata, perché se voi date un computer a una persona e glielo fate adoperare una volta al giorno, o glielo fate adoperare una volta alla settimana, o una volta all'anno, passa la differenza. E lui mi aveva fatto sempre un esempio sulla questione della manualità su un apparecchio, che poi ne parleremo anche della chirurgia. Allora dare in mano a una persona la risonanza magnetica e fargliela adoperare poche volte è meglio non dargliela, perché lui mi faceva un esempio culinario. Mi diceva, ma senti Carlo, se tu a tua moglie gli fai fare una crostata di mele una volta all'anno, o gliene fai fare una al mese, o gliene gli fai fare dieci giorni, pensi che ci sia la differenza, ma non so, non lo sa, se avete una crostata, no. Perché facendo una crostata dieci volte al giorno può sbagliare il lievito, perché si accorta che non ha più lievito e allora adopera un altro lievito che aveva lì e si accorge che avendo sbagliato il lievito gli è meglio. Alle volte mette la crostata nel forno, anziché ai 180 gradi, magari stabilito i 150 che siano, per una disestazione, l'ha messo a 100 o a 200 e si accorge che la lievitazione è migliore. Non c'è più la marmellata di albicocche, ma quella dei mirtilli, perché la sedesmentecata di Comperà, l'era Veneto questo quale, per quel che ogni tanto era di Padova, cioè la sedesmentecata c'è di avere la marmellata dei mirtilli e la che mette quella di albicocche e là si accorge che con quella di albicocche viene meglio. La stessa cosa avviene con le attrezzature, le attrezzature bisogna adoperarle, è impossibile mettere un'attrezzatura tipo risonanza magnetica nelle mani di una persona che l'adopera in poche volte. Un esempio ultimo e poi chiudo, ne parliamo qualche volta, pensate le mammografie, la bega delle mammografie. Allora molta gente andava a Peschiera a fare la mammografia, ma perché? Perché la macchina che c'era a Peschiera era molto più sofisticata di quelle che c'erano in tutti gli ospedali. Finalmente hanno capito che quelle mammografie che facevano non erano così perfette e hanno comprato quelle e ne hanno dovute mettere un'attrezzatura per il costo, perché le costano a barca dei soldi. Difatti io so adesso gente che non va più a Peschiera, ma va a Rovereto, perché l'attrezzatura di Rovereto è un'attrezzatura molto più moderna, molto più sofisticata e deve essere adoperata molte volte e non poche volte. Ci sentiamo la prossima volta.